Promotrice di questo evento, c'è un insieme di eventi chiamato Cammini della Daunia, che appunto formula un insieme di iniziative culturali per promuovere e valorizzare il territorio. Io sono una guida turistica e ho l'onore di iniziare il percorso dei Cammini della Daunia partendo proprio qui da Serra Capriola. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! L'America prossima ci saranno vari gruppi che partiranno da località diverse e confluiranno tutti a Castel Pagano, questo sito storico archeologico che si trova all'inizio della valle di Castel Pagano. Grazie per la visione! 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 Ciao da Roberto, ciao da Rocco, ciao da Luca, noi di Radiatina Beat abbiamo finito il ciclo di registrazioni per cammini della Daunia quest'anno, ringraziamo tutti per la fantastica e bellissima esperienza e noi siamo pronti a continuare a camminare!